Le persone hanno voglia di tornare all'aria aperta, hanno voglia anche di tornare in fiera per incontrarsi e poi c'è una tendenza fortissima sull'agritech, sul turismo, sullo slow life, per cui dobbiamo assolutamente cavalcare questo momento. Torna con numeri record Agritour, il salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale ad Arezzo Fiere Congressi, sede e patrona della storica fiera che torna con il bagaglio dei suoi 21 anni di esperienza, ma rinnovando ancora il format. Abbiamo contemporaneamente il mondo dei professionisti, il mondo della passione che ci lega alla terra, alla natura, agli animali. Un settore, quello dell'agriturismo, che da anni sta trainando il turismo della provincia di Arezzo, con 704 agriturismi attivi, dei quali 652 autorizzati all'alloggio. Il tutto per quasi 11.000 posti letto, di cui più di 9.000 in appartamenti e circa 1.500 in struttura. 5.600 poi agriturismi in Toscana, un quarto dell'offerta nazionale, che si conferma così regina del turismo rurale. Ci sono oltre 1.000 agriturismo presenti qua. Ci sono stati fatti due giorni, 2.500 incontri con i tour operator internazionali turistici, quindi provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada e dal nord Europa in particolare. specializzati nelle esperienze, dal bike oppure il wedding, tutte situazioni che possono aiutare l'azienda agricola di campagna a lavorare turisticamente, non solo nell'alta stagione estiva, ma allungare la stagione. Qui poi abbiamo molti espositori tecnologici. Il focus è stato messo proprio sulla sostenibilità ambientale, quindi sistemi di energia, di risparmio e di produzione di energie. La formazione è il taglio young, quindi abbiamo visto da un'indagine che abbiamo fatto negli ultimi quattro mesi che uno su quattro delle aziende agrituristiche italiane ha in corso un cambio generazionale, vuoi perché sono passati 30 anni dalle varie leggi nazionali e regionali, e qua Agritur oggi sta facendo formazione. Insomma, un ampio contenitore che nei padiglioni di Arezzo Fiere è ospitato dall'agricoltura all'apicoltura, passando per animali, ornitologia ed ovviamente non poteva mancare la cultura olivicola. L'olio che fa bene è solo l'olio di una certa qualità, nel senso che deve avere determinate caratteristiche. Dovete pensare che quello che sono i limiti del Comitato Olivico Internazionale per dire che un qualsiasi olio possa essere extravergine devono essere ridotti addirittura dal 25%. Solo questi oli qui possono essere definiti come oli premium.